Buongiorno. Allora, l'accompagnamento di cui parlavamo nel post è il seguente, è questo qui. Lo divideremo in quattro parti. La prima parte, slap iniziale, cosa che non c'è nel post, nell'immagine che vi ho dato sul post e due tune. Si inizia con la mano destra per i destri, con la mano sinistra per i mancini. La seconda parte si inizia dalla mano sinistra. Sono tre tune e uno slap. Uniamo la prima e la seconda parte. Lo slap che do all'ultimo è l'inizio della terza parte, perché la terza parte è uguale alla prima parte. Sarebbe la terza parte e unita alla prima e alla seconda parte fa questo. la quarta parte, riprende la seconda parte, fa con la sinistra, tune tune tune, slap. Quindi sinistra, destra, sinistra, destra con la slap. Questa è la quarta parte. E incomincia poi. Adesso uniamo la prima, la seconda, la terza, la quarta parte. Uniamola meglio, così solo le prime quattro parti. Eccola qui. Eccola qui. Queste sono tutte le quattro parti. Prima, la seconda, la terza, la quarta. Lo slap è inizio della quinta. Eccola qui. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie